Fratelli d'Italia con questa legge di bilancio sceglie di stare dalla parte di chi ogni giorno in questo momento difficile si rimbocca le maniche, sceglie di stare dalla parte di chi in questo momento difficile ogni giorno decide di credere e di investire nell'Italia, sceglie di stare dalla parte di chi in un momento difficile ha bisogno di essere aiutato. Sono convinto che questa manovra di bilancio risponda in maniera chiara alle esigenze degli italiani e soprattutto sono felice che questa legge di bilancio risponda in maniera chiara al mandato che ci hanno dato gli elettori.